Noi come Governo italiano abbiamo proposto di lavorare anche in vista della Presidenza italiana sulla libera circolazione dei laureati e quindi l'equiparazione dei titoli di studio anche nei settori più professionalizzanti che in questo momento fanno fatica a trasportare i titoli per esempio la medicina, la giurisprudenza, le professioni sanitarie. Queste sono temi molto importanti. Abbiamo anche proposto una verifica del processo di Bologna che è stato appunto visto che si chiama processo di Bologna. Ci sembra il caso che in vista della Presidenza italiana si parli di una verifica del processo e quindi abbiamo anche parlato che gli indicatori che sono stati proposti dalla Commissione per valutare le prestazioni del sistema di innovazione europeo vengano anche associati ai indicatori per la valutazione del sistema di istruzione superiore. In particolare la nostra proposta è un sistema di ranking delle università europee accreditato anche a livello di Consiglio europeo. perché non lavorarci? C'è un lavoro spontaneo da parte del mondo accademico e potrebbe essere associato anche a un lavoro istituzionale del Consiglio europeo. Insomma questi sono i temi che abbiamo discusso oggi in sintesi.